Tu sei un portiere di esperienza internazionale, che effetto ti fa essere in un club come la Juventus? Per me è un salto di mentalità, un salto di qualità. Io giocavo con le squadre molto forti, però Juventus è una dei squadri più forti del mondo, una dei due o tre. Quindi questo è sempre un salto di qualità e mentalità di sempre vincere. E' molto importante per me fare questo salto anche per il club. Io devo alzare il mio livello per essere pronto a giocare qui. Un aggettivo, una parola per descrivere te stesso. Wojciech Czesni è? Wojciech Czesni è un portiere che prova ad aiutare la squadra come Juventus. Sono pronto, sono felice e aspetto il mio primo allenamento. E infine una curiosità, tu sei un portiere, c'è qualche ruolo in cui hai giocato da giovane o in cui magari giochi con gli amici? Sì, attaccante, però per la Juve faccio solo il portiere. Quindi sono forte là e faccio solo così. Grazie. 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 Grazie.